Questo è un formicaio di formiche rosse, si chiamano la formica rufa che dovrebbero essere, queste sono termità in poche parole, si dovrebbe vedere il brulichio di migliaia e migliaia e migliaia di formiche, avviciniamoci un po', vediamo un po' se si riesce a vederle. Non so se si riesce a prenderle, a vedere il movimento, ci sono milioni e milioni di formiche. Proviamo ancora, si si ora si vedono, uno dice a cascarci sopra cosa succede? Ma non so.